quando arrivi giù, il problema è che si ferma, è come se fosse impulsiva, ecco è tutto il problema, che già ho regolato un po' la frizione per usarla un po', il problema è che non avendo, si non è la stessa cosa dell'altra, che tu già sei abituata con l'Arezzo che già chiudi e apri, no no prova vai 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 vai, dopo va finì che se mi piace sono fregato, quella nuova Escape R fa tutto il giro della mattina sono tornati ancora con il 20% quindi, si, non puoi fare una mulattia del vega, ho capito, però, però, come si rinde? si si lui, lui si eh, tu lì sotto c'è la retta, metti fuori, infatti, vedo che ti butta sua di colpo, questo, voglio dire al Max Montesa, puoi farlo anche tu con la lavatrice con la becca che ci avevi da, metti sotto il motore, provi eh, questa qui, la prova Max Montesa, accelera, si è caputata, infatti ho un po' molto di merda, eh, eh, ascolta, è un attimo eh, è nuova, c'è già la gomma nera, è nuova, che l'ho usata, poi sai cosa? troppo gonfia, ma qua non gli fa niente, sai cosa, con la scusa che lo vedi quanto apre e gira, te la mangia, infatti, la mangia, la mangia, la mangia sempre in una maniera più, eh, se la metti in una maniera più, quando hai bisogno non ce l'hai, ma cosa devi fare tu, non fare stupidaggini tu, già senza casco non fai niente, devi mettere il casco, eh, devi metterlo, no, non va, tanto non è in grado, prova a fare quello che fa con l'osso adesso, eh, sei senza casco, è la volta che si mette a posto la testa, no, si spacca il sasso in legno, è senza casco, vedi? guardi che è pericoloso, è pericoloso lui, non la moto, non si fa ancora le cose lì, eh, già sei pericoloso di norma, no, no, ti scappa di mano sta cosa,